E cambiamo per un istante argomento, parliamo di istruzione d'eccellenza perché il liceo scientifico di Alcamo, Giuseppe Ferro, primo istituto nel Trapanese, fra gli scientifici chiaramente a preparare meglio i ragazzi alla successiva carriera universitaria. E' il dato emerso dallo studio eduscopio che ha stilato l'annuale classifica dei licei più scelti a livello nazionale, regionale ma anche territoriale. Noi abbiamo sentito il preside Allegro che ha anche rivolto un pensiero per il liceo classico, cielo d'Alcamo, anch'esso un liceo brillante, altamente rinomato e scelto dai nostri giovani. Le classifiche lasciano il tempo che trovano, non si tratta di una promozione, di una bocciatura, non è questo il punto. Però è un'indagine seria e oggettivamente dà dei dati che sono relativi al successo del primo anno universitario degli alunni che si sono diplomati, quindi è una ricerca che dà delle indicazioni utili. Non solo in provincia di Trapani, siamo credo primi nella tutta la Sicilia occidentale, rispetto a tutte le scuole di Palermo, ma anche a molte scuole dei centri importanti della Sicilia, quindi questo è un dato sicuramente molto incoraggiante. Non ci può essere un solo fattore che sia determinante. C'è un ambiente che si è consolidato, il corpo docente, il personale ATA, le famiglie che sono molto vicine, si dialoga, si lavora insieme, il territorio con cui c'è una ormai profonda relazione di vario genere, il mondo delle associazioni, degli enti locali, del mondo istituzionale. Sentirsi parte di un'identità, di un percorso che lascia il segno. D'altra parte, lo sappiamo, per noi la scuola, anche nel nostro tempo, ha lasciato un segno. La vita, quei cinque anni trascorsi nella scuola superiore, sono sempre ricordati con grande affetto, un vissuto che ci accompagna positivamente nel futuro. Sviluppare consapevolezza, capire meglio se stessi e di scegliere poi con più oculatezza. Un pensiero all'indirizzo classico lo vogliamo rivolgere? Secondo nella provincia di Trapani, ma anche secondo, per esempio, nella provincia di Palermo. Solo l'uniceo Umberto fa meglio in questo senso, ma anche rispetto a Catania, la grande città di Catania, sarebbe secondo. Un grande risultato anche quello. Coltiviamo il futuro se dovesse usare uno slang? C'è da considerare l'aspetto del valore aggiunto che una scuola può dare rispetto al proprio territorio, rispetto all'utenza che ha. In alcuni ambienti, magari, gli alunni che frequentano sono selezionati, nelle grandi città soprattutto, nei quartieri migliori. Allora ti trovi già gli alunni che hanno un retroterra culturale, delle opportunità già proprie, insomma. Quindi la scuola li accompagna, ma non ha una grande fatica da fare per ottenere risultati. Quando hai studenti che provengono da tutte le direzioni, da tutti gli strati sociali, hai un valore aggiunto in più, nel senso che devi promuovere le capacità così variegate di tutti gli alunni. E questa è una sfida più bella, anche più importante da parte della scuola. Se fossimo stati in mare su una barca a vela, avremmo detto, per chiudere, buon vento, preside. Qua come chiudiamo? Va benissimo come augurio, ma ricordiamoci che c'è un antico adagio che diceva che non c'è vento favorevole per chi non sappia dove andare.